Ci siamo, parte la rifunzionalizzazione del nostro teatro romano, un intervento strategico, un bene fondamentale, identitario per la città di Termo, ma non solo. Si tratta del recupero di un bene culturale fondamentale per l'intero territorio regionale, che rende competitiva la nostra città e l'intera regione, tant'è che il finanziamento è stato riconosciuto anche dal Ministero per il Sud, dall'Agenzia per la coesione. Segno di quanto sia rilevante il recupero del teatro romano per la rinascita di Teramo e dell'intera regione Abruzzo. Da tanto tempo, da troppo tempo si attendeva questo momento, un momento che è stato più volte annunciato, atteso, auspicato, oggi finalmente è realtà. Con la rimozione dei due palazzi che oggi inauguriamo in termini di cantiere, liberiamo l'area del teatro e ci prepariamo ad un recupero che consentirà a questo spazio, a questo luogo, di tornare ad essere fruibile, di tornare ad essere vissuto, di ospitare eventi culturali che si inseriscono all'interno di una riqualificazione più ampia di un'area che sarà degna di una città straordinaria, di una città piena di bellezze come Teramo, città capoluogo è. Grazie.